salve a tutti ragazzi bentornati sul canale e benvenuti perché quest'oggi dopo tanti appunti presi volevo fare il punto della situazione per quanto riguarda il calciomercato del napoli andando anche un po' a ritroso a circa un mese fa prima che cominciasse comunque il calciomercato di gennaio perché c'erano già alcuni nomi in ballo tanti che comunque poi sono andati scemando ho cercato di prendere gli appunti per quanto riguarda le situazioni forse un po' più chiare dove c'è stato veramente l'interessamento del napoli dove c'è qualche sì del calciatore e bisognerebbe poi limare ingaggi e parlare con la società comunque andiamo con calma cominciamo per gradi come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ragazzi attivate la campanella e forza napoli perché questo è un canale di calcio ma sono un tifoso del napoli sfegatato allora andiamo per gradi inizio dicembre mi sembra prima settimana di dicembre il napoli interessato a ardon gli asciari chi è ardon gli asciari ardon gli asciari è uno un ventenne di nazionalità svizzera che milita nel lucerna sarebbe un vice lo botca centrale di centrocampo centrocampista difensivo che potrebbe essere il vice lo botca con un'operazione alla guaraschelia perché i cartellini sono proprio irrisori credo al massimo 7 8 milioni la potresti portare a casa ed è una trattativa nella quale il napoli ha sondato solo il terreno ma non c'è niente di certo e di sicuro fatto sta che il vice lo botca napoli serve come il pane c'è un altro profilo interessantissimo del quale si è parlato nel passato recente che è ferdica di oglu del fenerbace o fenerbace ditelo come volete intorno ai 12 milioni il cartellino è un jolly a centrocampo e sulle fasce gioca a destra e a sinistra come terzino o come mezzala difensiva però ha anche ricoperto il ruolo di centrocampista offensivo una sorta di zienischi ma più centrale quindi sarebbe un ottimo calciatore per quanto riguarda la versatilità della quale spalletti comunque ha bisogno perché l'abbiamo visto anche con la salernitana anguissa comincia a destra poi a partite in corso si vede che non funziona si sposta a sinistra comunque devi essere pronto a poter giocare su tutte e due le fasce e sarebbe veramente un ottimo acquisto e ho fatto una reaction con le giocate sul canale per ferdica di oglu è veramente tanta roba visione di gioco tutte e due i piedi tanta corsa e poi ripeto è un jolly che può giocare sia a destra che a sinistra farebbe veramente al caso del napoli andiamo nella situazione losano losano in possibile partenza a giugno ancora non si sa però può darsi che parta può darsi che noi il napoli si sta coprendo su quella fascia già da adesso ed è certo e è constatato che il napoli ha il sì del giocatore parliamo di adam atrori che milita al volverempton lo ricordiamo nei recorsi al barcellona dovrebbe arrivare al posto di losano transfer mart mi dà un cartellino a 15 milioni ma credo che costi qualcosa in più comunque un esterno destro offensivo che ha anche una fase di interdizione veramente niente male poi fisicamente è molto più grosso di losano losano l'unica pecca che ha losano è che è un po più esile perché comunque nel calcio moderno ti vengono ad attaccare alti comunque la spallata ti spostano è vero prendi la punizione però a volte non ti danno la punizione becchi la ripartenza comunque la fisicità è un tassello importante diciamo così comunque abbiamo il sì del calciatore di adam atrori è un esterno destro offensivo fisicamente una bestia per me sarebbe l'acquisto ideale per rimpiazzare il ciuchi poi ti ritroveresti a napoli con politano che è saggiato un bel po conosce tutti gli schemi di spalletti potresti lavorare in simbiosi ci vorrebbe molto poco per integrarlo e farlo entrare nei meccanismi del calcio spallettiato diciamo c'è stato dopo il mondiale parliamo di un altro centrale di centrocampo c'è stato dopo il mondiale l'interessamento a una i ma non siamo i soli perché una i ha tre quattro squadre che comunque sono interessate c'è anche l'inter mi sembra trattativa non facile che il napoli non ha arenato ma ha messo da parte perché è una trattativa per giugno e poi ripeto c'è tanta concorrenza possiamo solo dire che ci sono state dichiarazioni del padre del calciatore le quali dicono che l'interessamento del napoli c'è e il calciatore sarebbe felice di vestire la maglia azzurra ma niente di più allora poi è uscita una notizia un po di tempo fa per l'asa samarzic samarzic al napoli sempre come centrocampista offensivo però se devo fare se posso fare un paragone prenderei ferdica di oclu del fenerbace e lo farei giocare lì perché mi piace di più non che samarzic non sia un calciatore un bel calciatore però come prospettiva prenderei ferdica di oclu del fenerbace tutto qua ovviamente parliamo anche dello scambio collini siriku benvenuto approfitto per dare il benvenuto a collini al napoli siriku che va a firenze comunque a fare il secondo dovendosi giocare il posto conterracciano ma non la situazione non è stata chiara perché siriku ha lasciato comunque il napoli si è coperto alla grandissima un prestito con un riscatto a 8 milioni che per collini mi sembra una cifra ottima bassa secondo me per il valore del portiere perché collini resta secondo me un grandissimo portiere italiano poi c'è la situazione dove il napoli ancora alla finestra per vicario e baldanzi dell'empoli portiere e attaccante baldanzi è quello che ha segnato il gol all'inter ragazzi è un grandissimo calciatore di vicario se ne parla sempre bene sono i numeri a parlare ed anche gli ex portieri che lo reputano comunque uno dei più grandi talenti italiani siamo alla finestra credo che l'affare vicario sia un'operazione che si farà solamente se arriva qualche offerta per merette perché comunque quando fai un campionato al topo come lo sta facendo meretta adesso a giugno si presenteranno sicuramente le offerte squadre fuori la porta che cercheranno il portiere e io spero dal mio punto di vista di trattenere meretta quanto più possibile soprattutto l'anno prossimo perché altrimenti non voglio fare la fine di zapata perché zapata va all'atalanta e comincia a fare le caterbe di gol e ti mangi le mani meretta la stessa cosa meretta abbiamo aspettato che esplodesse abbiamo aspettato che il talento riuscisse a dire la sua ci sta riuscendo e quindi perché vuoi tagliare subito le gambe e mandarlo da un'altra parte quando arriva qualcuno e lo vendi quando puoi farti anche l'anno prossimo che in prospettiva avrai secondo me il miglior portiere in serie a tra i pali tutto da vedere quindi io credo che la situazione vicario andrà solo in correlazione con una vendita una possibile vendita di meretta tutto qua il napoli ha preso anche beresinski ovviamente ho fatto la reaction sul canale ne abbiamo già parlato beresinski è arrivato a napoli zanoli alla samp per me un grandissimo acquisto per avere quel briciolo di esperienze in più perché comunque ricomincerà la champions ci saranno tante partite da giocare il nostro capitano è insostituibile lo sappiamo è il miglior terzino in italia e secondo me anche tra i primi quattro in europa al momento quindi beresinski non è arrivato a napoli per soffiargli il posto ma è arrivato a napoli per avere quel po di esperienze in più quando il nostro di lorenzo deve rifiatare grandissima operazione di mercato questo si parla anche si parlava anche ieri di josi brecalo in forza al wolfsburg però ho letto comunque ieri sera tra ieri sera e stamattina che la fiorentina ha quasi concluso l'operazione quindi non credo se ne faccia niente però parlarne è sempre buono sarebbe un vice quara schelia per quanto riguarda il ruolo alla sinistra alla destra può fare la seconda punta il napoli cerca un vice quara questo è poco ma sicuro a napoli si cerca un vice quara e si cerca un vice lobotka perché non c'è c'è demme ma non sappiamo se rimane non sappiamo se spalletti poi ci voglia puntare più di tanto comunque demme ha avuto anche tanti alti e bassi a livello di infortuni affaticamenti mi sembra un po la storia la storia la stessa storia di amara e giorginio quando c'era sardi è inevitabile tu hai un calciatore come giorginio aveva come sardi aveva giorginio che era insostituibile e quando non lo facevi giocare vedevi che la zuppa non era la stessa la stessa cosa e con lo botte spalletti non c'è lobo ragazzi non giriamo come dobbiamo girare e se non giri come deve girare non crei spazio e diventi poco pericoloso e diventi super prevedibile per le squadre avversarie comunque detto questo josi bregalo sarebbe un ottimo acquisto a me piace come calciatore ho visto qualche partita del wolfsburg perché sto guardando un po di bundesliga in più per per seguire line track di cosa sta facendo line track e quarto era secondo settimana scorsa comunque sceso quarto sono tutti lì anche in in germania tra secondo e quinto posto è una track che è in forma quindi in vista dell'ottavo di champions dobbiamo arrivarci completamente carichi e soprattutto consapevoli di poter arrivare ai quarti allora su josi bregalo si ha già il sì del giocatore però bisogna comunque trattare con la società e forse la fiorentina è molto più avanti perché ho letto ieri che la fiorentina sta cercando di bruciare le tappe perché il napoli comunque per fare qualche altro acquisto comunque deve sfoltire demme partirà non si sa zanoli si parlava di zanoli per fare entrare un'altra alla sinistra e ovviamente devi mandare via qualcuno per poter inserire qualcun altro non si sa cosa succederà zanischi a giugno e ovviamente la grana osimen che purtroppo ragazzi è io me lo godo giorno per giorno e giornata per giornata al grande osimen perché voi i grandi attaccanti si sa tutte le finestre di mercato arriveranno sicuramente tutti i club d'europa con tanti soldi e poi la si vedrà cosa succederà fatto sta che sono consapevole anche che nel caso il napoli dovesse cedere osimen a giugno arriveranno talmente tanti soldi che la competenza di giuntoli e della società tutta farà sì che troverai il sostituto di osimen in primis ma non andrà ad intaccare niente a livello di gioco quindi il napoli che già si sta muovendo per vedere di trovare un'altra punta nel caso perdiamo osi poi non dimentichiamo che il napoli ha già fatto il mercato di quest'anno ad agosto in vista futura raspatori simeone sono tutti i calciatori che comunque avranno spazio sia adesso che nel campionato prossimo è tutto da vedere è tutto da vedere questo calciomercato del napoli voglio solo dire che il napoli si sta comportando talmente da top club a livello di mercato che vedo l'apertura di un ciclo lungo non voglio dire che il napoli vince lo scudetto quest'anno e vince lo scudetto per i prossimi vent'anni però si sta aprendo un ciclo tra giovani ed esperti che può portare il napoli nelle prime posizioni in italia e in europa per i prossimi dieci anni mi auguro meno auguro facciamo cinque anni comunque grandissima squadra grandissima prospettiva di calciatori e tra tutti quelli che ho nominato lo ripeto ancora una volta spero che il napoli riesca a prendere tra ore nel caso perdiamo lo sano perché io mi tengo il ciucchi poi se lo sano non parte non è che dico ma lo sate ne dovevi andare perché dovevamo prendere ad amatro ore no lo sano va benissimo a napoli poi se parte è ad amatro ore il mio preferito e per trovare il vice robotica io punterei sul colpo alla guaraschelia perché ho visto ho fatto una reaction e ho visto gli highlights di ardo in gli asciari se volete ragazzi andate a recuperare la reaction o guardatevi gli highlights di questo calciatore perché a vent'anni è veramente tanta roba quindi speriamo di rimpiazzare robotica io spero sempre che vada via quanto meno gente possibile spero che demme diventi il vice robotica per eccellenza però non credo che accada quindi bisogna coprissi questo era quanto per il calcio mercato del napoli abbiamo fatto un diciamo un recap della situazione del napoli da dicembre ad adesso con tutti i nomi che sono usciti e che usciranno ancora sempre forza napoli ragazzi ci vediamo nel prossimo video mettete un like a questo video iscrivetevi al canale se vi va ragazzi ciao